le bianche neri già belli che fatti già belli che pronte che sono quelle all'interno dei canali ma come sempre iniziamo prima dalle cose un pochettino più intuitive quindi prima cosa vediamo anche un po la differenza tra il bianco e nero portando a zero la saturazione tipo qua vedete c'è un livello di regolazione e saturazione tutte queste cose qui livello di regolazione e saturazione il livello di regolazione bianco e nero li trovate perché poco pratico qui dentro in fondo alla palette livelli qua tonalità saturazione e bianco e nero e si apre il livello di regolazione sul grosso uno dei grandi vantaggi è che l'occhietto quindi potete vedere prima e dopo quindi semplicemente portando la saturazione a 0 si toglie l'informazione sul colore per lo meno diciamo si toglie sì l'informazione sul colore del file abbiamo un bianco e nero già bene che pronto ci può piacere non ci può piacere ci piace già così lo potremmo un po modificare come modificarlo in modo molto semplice lo vediamo tra poco anche sui canali o comunque non lo vediamo anche subito possiamo aprire ad esempio un livello di regolazioni facciamo livelli livelli tonali e andiamo semplicemente a fare un po un aumento del contrasto tonale qui c'è vedete diventa tutto più brillante forse meglio così non vedete accendo spengo qui nella palette livelli abbiamo l'occhietto accendo spengo gli ho dato un po di brillantezza secondo me va bene così cioè non è che c'è da sì volendo si può andare a lavorare in modo localizzato ma questo magari lo vediamo in uno degli altri webinar qui invece abbiamo ecco un attimo solo il livello trasformato in scala di grigio e vediamo un attimo vedete la differenza eccolo qua tra scala di grigio e questo sto accendendo e spegnendo l'occhietto del livello di regolazione qua nella palette livelli e sotto tonalità e saturazione in soldoni fanno tutti e due la stessa cosa cioè tolgono l'informazione sul colore però come vedete i risultati sono leggermente diversi ad esempio qui in alto in queste zone grigie con scala di grigio abbiamo maggior contrasto decisamente già decisamente meglio anche questo e anche questo volendo in modo molto molto semplice con un livello di regolazione valori tonali zacchete lo facciamo diventare un bel bianco e nero bello contrastato e direi che da un certo punto di vista il webinar lo potremmo anche chiudere qui perché mi sembra alla fine ok comunque ho preparato un mito di livelli cerchiamo di vederli tutti qui invece abbiamo il classico livello di regolazione bianco e nero adesso lo spengo lo apriamo sempre da qua sotto bianco e nero eccolo qua ok vedete quindi anche qua abbiamo un sistema molto pratico e molto intuitivo per andare a creare del bianco e nero possiamo aumentare i contrasti ad esempio anche la nel cielo vedete zacchete poi quando fate questi lavori qua mi raccomando prendete la lente eccole qua vedete zacchete la fregatura in queste zone qua dove c'è un grosso stacco ecco la fregatura c'era già anche nel file originale lo vedete il trattino bianco il filetto bianco ok qui c'era già si vede si vede ok il filetto bianco di stacco tra la montagna e il cielo ok quindi qui c'era già nel file originale occhio quando fate le conversioni quindi lavorate con questi strumenti qui che vanno a modificare magari i colori singolarmente occhi mi rendite sempre fate attenzione questi questi strati e qui abbiamo il livello di regolazione bianco e nero con il quale è possibile andare a creare aumentare i contrasti quindi vado aumentare le luminosità dei colori corrispondenti vedete la dove c'è per blu del cielo però c'è anche una dominante azzurra qui nelle rocce e quindi la vedete qua tutto questo azzurro quadri dominante per l'ombra e quindi va a scurirmi mi vado aumentare il contrasto tonale un po dappertutto poi chiaramente anche qua nulla mi vieta dopo di provare a fare ancora un piccolo intervento magari così adesso io questo esagerando per farvi vedere un po le cose insomma una roba del genere e qui abbiamo ancora un altro un altro bianco e nero il mondo del bianco e nero in photoshop è sterminato abbiamo 20 mila modi per fare le cose ok adesso andiamo a vedere un attimo il discorso dei canali eccolo qui questo qui il bianco e nero dal canale del rosso il canale del rosso dove sta abbiamo la nostra immagine a colori nella palette canali eccoli qui si fa un giro e ci si va si va a vedere che bianchi e neri ci sono ok questo qui del canale del blu davvero un po troppo piatto però al canale del verde bianco e nero non ad alto contrasto con tutte le sue belle sfumature il canale del rosso bianco e nero con un bel numero di sfumature ma un contrasto un pochettino già più più accentuato che probabilmente piace di più quindi abbiamo già un bianco e nero come vedete rispetto agli strumenti che abbiamo prima abbiamo già una un bel contrasto tonale qui nel nel cielo ad esempio chiaramente questi ragionamenti qui variano da foto a foto cioè questa foto qui funziona bene il canale del rosso magari un po meno il verde poco secondo me il blu in altre foto chiaramente nulla probabilmente potrebbe sarà anzi sarà chiaramente il contrario dipende ovvio da dai colori presenti presenti nell'immagine quindi abbiamo un nostro canale del rosso abbiamo trovato il canale che ci interessa riclicchiamo qui su rgb allora come lo portiamo qua dentro perché poi dovremmo salvare la nostra immagine o perlomeno andare a caricarci sopra ancora un livello un livello di regolazione il sistema semplice che vi faccio vedere questo qua quindi siamo facciamo così chiudo tutta questa roba qua almeno in un gruppo così gruppo gruppo da livelli eccolo qui così abbiamo soltanto la nostra immagine originale quindi ci apriamo un livello vuoto su selezione il livello con l'immagine andiamo a prendere il nostro canale seleziona tutto modifica copia ritorniamo in rgb riselezioniamo il canale vuoto e facciamo un bel modifica in colla e voilà e abbiamo il nostro canale del rosso dopodiché possiamo comunque sempre andare di fare un po di correzione sto usando livelli tonali per non aprire le curve giusto si può fare anche con duplica livello invece che copia in colla penso di sì no? si può fare no duplica livello no si fa con applica ok quindi abbiamo il nostro canale del rosso ci abbiamo messo sopra questo livello di regolazione valori tonali mi sembra che sia in italiano è quello che trovate in livelli nuovo livello di regolazione in inglese livelli ma è quello che sta qua dentro sopra le curve ma loro i tonali o sennò usate le curve uguale e viene questa cosa qua butto via noi abbiamo la nostra immagine e quindi abbiamo visto i tre canali rgb perché l'immagine è in rgb però guardate qua voce di menu immagine modo rgb però ci sono altre due interessanti modalità colore che si portano dietro dei canali in bianco e nero è utile farci un giro quindi abbiamo la nostra immagine andiamo nel menu modifica modo andiamo a vedere il lab che anche se sapete che non è che cos'è passiamoci sopra un attimo riclico di non unire vabbè dai che ci stai un po' forse era meglio unire ok adesso vedete qui nella palette info qua dentro adesso c'è scritto lab questa questa cosa un po' per addetti i lavori comunque adesso se andiamo nella palette canali troviamo sempre tre canali ma tre canali un po' strani uno è quello della luminosità uno è il canale a lab lab e l'altro è il b questi due questa sera facciamo finta che non esistono e quello che ci interessa è l'el il canale che tiene la luminosità quindi fondamentalmente il canale che tiene appunto il bianco e nero soltanto i valori luministici del del nostro del nostro scatto per cui anche qua possiamo diamo un attimo che siamo sul canale con l'immagine a colori selezioniamo il canale della l stesso discorso di prima seleziona tutto modifica copia riclicchiamo su l ab qua in alto dove c'è l'immagine a colore per riportarci in un mondo umano apriamo un livello vuoto e andiamo a fare un'incolla incolla zacchete e di nuovo anche qua volendo allargarsi apriamo un valore tonale e andiamo a a fare un bianco e nero che alla fine non è che sia poi molto diverso dagli altri però notate ad esempio rispetto a tonalità saturazione a scala di grigio guardate qua dentro che belle sfumature ci sono ancora tutte conservate dentro quest'area qua proprio perché il canale tiene le luminosità il canale del metodo lab torno un attimo indietro nella storia vedete che adesso una palette info zacchete qua sono ritornato in srgb quindi siamo ritornati nel mondo normale i miei canali era zacchete eccoli qui quindi andiamo a vedere ancora una cosa di nuovo immagine c'è l'altro modo colore con i canali che è quello della quadricromia eccolo qui cm yk diciamo di non unire tutto adesso qui mi dice che succedono un po di cose ignoriamo tutto portiamo sulla info eccolo qua vedete adesso c'è scritto sta roba qui cotet fog 39 che è un profilo di stampa standard per l'industria ma vuol dire che l'immagine è in quadricromia lo vedete anche qui in alto vedete qui nella tabellina nella tab del nome della finestra cm wake up ok e qua anche qua vedete abbiamo i nostri canali canale del ciano che è questo qui il canale del magenta del giallo il canale del nero del nero non è non è non è dice nero ma è una roba della quadricromia non si porta le luminosità e non è che questi qua questi si portano i colori un certo punto di vista e questo qui invece semplicemente è quello che serve per creare i colori più scuri nella stampa in quadricromia anche qua vedete potremmo scegliere magari quello più vediamo un po andatevi poi fare un giro con ingrandiamo un po con con lo zoom per vedere un po cosa c'è nelle zone più scure magari ci si fa un giro e se c'è un canale interessante stessa cosa di prima seleziona tutto si ritorna nella versione a colori si mette il facciamo ci hanno bene andiamo questo seleziona tutto modifica copia intorniamo a colori andiamo qua dentro modifica incolla e voilà l'immagine ce l'abbiamo sempre in quadricromia occhio che adesso andiamo adesso andiamo a fare una modifica giusto per fare qualcosa ecco notate ad esempio che in quadricromia certe voci dei livelli di regolazione non sono ad esempio utilizzabili sono disattivate tanto per vedete come cambiano anche gli istogrammi chiaramente cambiando i canali contenuti dei canali possiamo fare una cosa del genere adesso se vogliamo uscire in jpeg ci conviene però ad esempio appiattire tutto o ritornare immagine modo rgb gli sto dicendo di non unire tutto e queste robe questi click semplicemente gli sto dicendo di non unirmi di non farmi un livello unico del tutti i livelli e voilà e a questo punto posso posso salvarmi il mio file in jpeg e andare e andare in stampa voglio farvi vedere una cosa torno indietro nella storia vedete io mi sono giocato tutti i vari passaggi della storia ne ho 40 mi sono giocati tutti giusto un piccolo extra così qui in alto vedete nella storia questa etichettina qua speciale è che se ci clicco sopra mi riporta la foto così nello stadio in cui l'ho aperta e quindi può essere un salvavita è chiaro che se poi ho fatto dei passaggi sono dato oltre il numero di passaggi che ho memorizzati nelle preferenze della storia mi sono giocato magari dei dei lavori o delle parti mettiamo tutto di nuovo nei livelli nei gruppi scusate per far pulizia quindi siamo sempre in rgb è normale sacrosanto rgb lo vedete qua s rgb lo vedete anche qua in alto scritto rgb qui nella tab di della finestra qui abbiamo il nostro livello normale se c'era il lucchetto di qua il lucchetto lo togliete ci cliccate sopra viene via allora si può fare un lavoro di questo tipo per andare avanti indietro tra i modi colori lo convertite in oggetto avanzato quindi da qua tasto destro converti in oggetto avanzato voilà poi ci fate doppio clic gli date un bell'ok e si apre vedete qui adesso c'è un'altra finestrella con questa strana estensione livello 0.psb ok che sono le estensioni dei file speciali di photoshop e qui abbiamo quest'altro livello che la nostra immagine aperta diciamo in un'altra finestra andiamo nel menu immagine modo e lo mettiamo in lab ok dopodiché andiamo nei canali ci prendiamo la luminosità facciamo copia in facciamo luminosità seleziona tutto modifica copia ritorniamo qui adesso che l'abbiamo e poi torniamo togliamo la selezione selezione di selezione adesso questo canale 15 faccio doppio clic qua sul sul nome ci scrivo la giusto per ricordarcelo sta roba qui sta dentro l'oggetto avanzato un po come se fosse una matrioska ed edificato al suo interno da un certo punto di vista vado qui nella sua finestrella qua in alto nell'etichetta vedete nella tab se clicco qua chiudi gli dico di salvarlo chiude la finestra e ritorniamo dove eravamo prima sempre in srgb e questo qui è sempre il mio canale srgb mi ero copiato la l che sta ancora in memoria quindi attivo il apro il livello vuoto faccio immagine incolla modifica incolla e zacchete eccolo qua e questa qui la l andando avanti facendo tutti questi numeri qui mi posso fare un giro tra i vari modi modi colore quindi doppio clic si apre il lab tasto destro lo converto in oggetto avanzato per tenermi le cose separate doppio clic zacchete vedete adesso le finestrelle sono 3 si è aperta un'altra qua questo qui li cambio nome lo chiamo quadricromia lo lascio così com'è andiamo nei canali chiamo quadricromia ma forse utile convertirlo in quadricromia eccolo qua ok voilà convertito in quadricromia andiamo nei canali ne vado a scegliere uno scegliamo questo qui il magenta che diverso a tutti gli altri almeno ce lo ricordiamo seleziona tutto modifica propria ritorniamo in cmk riclicchiamo qua sopra ritorniamo nei livelli siamo qua dentro ci togliamo la selezione le selezioni togliete le sempre quando non vi servono più x chiudo e chiudo gli dico di salvarlo questo qui me lo salva dentro il lab che è in lab lo vedete qua dall'etichetta sul lab non c'è fatto niente non ci faccio niente adesso lo chiudo e dico di salvarlo e zacchete me lo salva dentro il mio la mia immagine di partenza che in srgb lo vedete scritto srgb adesso mi tolgo la info dei piedi quindi vado qua livello vuoto se faccio un'incolla dovrebbe incollarmi eccolo qui il magenta era il magenta si è il magenta e questo qui invece è la l di lab di lab dategli i nomi ai livelli che sempre utile questa è la m di cmk della quadricromia a questo punto e allora facciamo ancora un giro l'ultimo canali buonanotte spengo ok sto andando un po di corsa qui abbiamo il rosso prendiamo una roba orrenda prendiamo il blu seleziona tutto non avrei capito copia andiamo di qua andiamo di qua togliamo la selezione apriamo un livello vuoto e facciamo un incolla e questo qui è il blu di rgb vedete è comodo perché li avete tutti e tre uno avete i tre che avete scelto perlomeno ok a questo punto li avete qui comodamente accendete e spegnete gli occhietti e scegliete quello che vi interessa che vi interessa di più l'ultima cosa che volevo farvi vedere è invece il bianco nero all'interno di camera raw quindi spengo siamo sempre nella nostra immagine di partenza lasciate perdere che adesso lo rasterizzo così ok l'ho rasterizzato quindi come se fosse un livello di sfondo normale questi qui li mettiamo in un gruppo e facciamo finta che i gruppi non ci siano abbiamo aperto il nostro livello tasto destro convertiamolo in oggetto avanzato perché perché adesso andrò ad aprirlo come filtro in camera raw quindi ogni volta che ho a fare con dei filtri 99 su 100 converto il livello in oggetto avanzato perché poi avrò la possibilità di una completa gestione del filtro prima e dopo lo posso modificare riaprire mascherarlo eccetera eccetera quindi apro camera raw come filtro adesso Photoshop mi apre questa immagine in camera raw e in camera raw velocemente possiamo già cliccare su bianco e nero e poi che ne so faccio un giro così per dire ok un giro così adesso azzero tutto non mi ricordo mai qual è la scorciatoia per azzerarli tutti in un colpo solo ritorniamo a colori oppure mi butto qua dentro se avete una delle ultime versioni di camera raw lo vedete questo quadratino si vede l'iconcina il fumetto giallo no browse profili abbiamo già visto questo qua e qui dentro abbiamo ad esempio già i profili del bianco e nero con tutta una serie di bianchi e neri già belle che pronti quindi con alcuni molti dei ragionamenti affini a fare il numero dei canali è perché un po' secondo me ci pesca da lì dentro ok vedete quindi vi scegliete anche qua il bianco e nero che vi convince di più ce neanche vedete questo qui tremendamente piatto sembra una roba dalla quadricromia vita facile così vita facile così così sì poi c'è Franco che ha anche il plugin ci sono anche il plugin con Silver F che sono quello che una volta era Silver F non mi ricordo mai è la Nick Collection è lì buonanotte cioè lì altro che perché qui un po' il plugin te lo fai nel senso che metti che ti piace questa qua la selezione qui poi ad esempio vedete avete anche il fattore lo slider quantità quindi potete esagerare questo questo preset 9 a 100 ok quando sta a 0 ok quindi diciamo che ho scelto questo qui bv4 torno qua dentro e poi da qua ad esempio imbassiamo un po' le alte luci perché su quei sassi sono andati un po' a farsi benedire vedete però mi tengo tutto il contrasto delle zone scure dei mezzi toni così mi abbassano un po' le le alte luci pochettino imbassiamo un po' il contrasto giusto voilà ok e ho questo bianco e nero qui adesso che l'ho fatto come oggetto avanzato dalla palette dei livelli qui gli do l'ok occhio adesso e zack ecco vedete si è applicato come filtro smart filter filtri intelligenti di camera raw con il suo occhietto quindi ho la possibilità e questo è davvero potente come cosa come ragionamento cioè lavorare in questo modo qua e ho il mio occhietto lo spengo qui mi ritorno a colori lo riapro come filtro in camera raw vi faccio vedere ancora un'ultima cosa che me la stavo dimenticando lo riapro in camera raw clicchiamo semplicemente bianco e nero qui in alto e poi andiamo nella palette dei colori questa qua che si chiama vedete i colori sono quanti? 3, 6, 8 ce ne sono due in più rispetto alla stessa palette analoga dal livello di regolazione in Photoshop quindi avete due colori in più da da giocarvi quindi non so ad esempio facciamo il cielo un pochettino più cupo schieriamo un po ecco vedete questo il verde di quel laghetto lì così un po' troppo piattino schieriamolo un po' anche qua vedete vedete il giallo di cristalli dentro quell'acqua lì c'è anche del giallo schieriamo un pochettino ci sono gli arancioni ok vedete che adesso muovo gli arancioni e zacchete avete visto che ho creato già un contrasto tonale dove prima non c'era niente adesso tolgo questa regolazione guardate quei sassi lì in basso a destra vedete che è tutto grigio il bianco e nero a parte i numeri che numeri insomma queste cose che mi avete visto fare adesso o tutti i mega i grandi tutorial di cose anche più complesse di questo alla fine la cosa fondamentale è capire e decidere dove andare a mettere le mani per creare contrasti tonali ok è un po' cioè alla fine tutta la storia di sto bianco e nero che vedete stasera dovete arrivare al punto di capire che lì dentro lì in basso a destra lì vedete i sassi tutta la zona dell'acqua insomma da fotografi dovete incominciare a ragionare sul fatto di chiedervi dove posso migliorare dove c'è una zona in cui devo andare a aggiungere creare contrasto in qualche modo poi vi ingegnate a imparare le tecniche ma per prima cosa incominciate a chiedervi queste cose qui e poi le tecniche arrivano insomma le vedete qui le vedete sui webinar ok vedete diciamo un po' così andiamo qua dentro andiamo ad esempio il filtro questo qui della nebbia a me piace un casino per creare il contrasto tonale nelle immagini la chiarezza un po' e poi per concludere magari se andiamo a prendere una maschera e finiamo qua no devo andare che scusate la maschera la vediamo un'altra volta diamo l'ok vediamo quest'ultima cosa al volo e voilà vedete che adesso i filtri sono due camera raw quello con l'occhietto e quello di adesso lo spengo la immagine ritorna colore che accendo quello sotto e zac mi da l'altro bianco e nero quello di prima uno e due questo qui sono uguali ho fatto la stessa cosa uno e due quasi uguale ok quindi avete il vantaggio potete farvi diverse versioni poi ne accendete una ne spegnete un'altra e avete si cambia e avete due versioni differenti del vostro bianco e nero da salvare in jpeg e da mandare da mandare in stampa in stampa in stampa siamo